I cammini in Puglia piacciono sempre di più. I dati delle statistiche in materia di flussi di camminatori sul territorio relative al 2022 in confronto con il 2021 parlano di un aumento del 24% dei camminatori, un dato che potrebbe anche crescere perché non include i turisti autonomi e quelli che percorrono tratte e che quindi risulta chiaramente sottostimato, non essendo ancora inclusi i numeri dei turisti autonomi, delle permanenze brevi e i dati relativi alle tratte non ancora certificate. Solo tenendo conto delle proiezioni stimate dei flussi per la via francigena si arriverebbe a sfiorare un 45% di incoming. Valutando poi la ricaduta economica della permanenza dei camminatori sul territorio della Puglia per il 2022, il dato si attesta su una stima prudenziale di oltre 2 milioni di euro, un valore che andrebbe almeno raddoppiato tenuto conto che in media le credenziali vengono richieste da un camminatore su due e che comunque già consente di assicurare il rientro degli investimenti pubblici effettuati sul territorio per lo scorso anno. Altri importanti dati affiorano dalle statistiche relative alla destagionalizzazione garantita da camminatori e bikers. Infatti la stagione calda giugno-ruglio-agosto viene tendenzialmente evitata da queste categorie, facendo ricadere le preferenze su aprile-maggio, la seconda metà di settembre e ottobre, mesi cardine per la strategia turistica che punta ad anticipare e prolungare i flussi turistici, soprattutto internazionali.